Maggior sicurezza, questo è quello che chiede Casal Maggiore alla nostra casa con Valentina Mozzi, Fabrizio Vappina, Mario Dain e Pierluigi Pasotto che la rappresentano in Consiglio Comunale per il Parco Golena Casal Maggiore a seguito della tentata violenza sessuale perpetrata ai danni di un'attrice teatrale romana. Telecamere e ripristino delle GEV, le guardie ecologico volontarie in primo luogo, ma pure una maggiore attenzione. La mozione presentata dal gruppo consigliare di minoranza sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale e si parla espressamente di riproposta, volendo sottolineare come già CNC si fosse mosso in questa direzione. Non c'è soltanto il caso più grave del tentato stupro, ma anche fenomeni di vandalismo, danneggiamenti eppure il giro dello spaccio sembra trovare terreno fertile proprio in Golena, zona del resto abbastanza lontana da occhi indiscreti. Su nostra precisa sollecitazione, accusa CNC, l'amministrazione sarà assunta all'impegno di produrre una progettualità concreta per affrontare un fenomeno di profondo disagio giovanile che sta interessando molti adolescenti casalaschi, ma ad oggi nulla di questo risulta operativo. Dopo la critica, ecco la pars costruens, ovvero le precise richieste. Installare videocamere di sorveglianza del comune che possono integrarsi con quelle già presenti dei privati, come ad esempio quella degli amici del Po che ha permesso di riconoscere quattro uomini entrati in Golena nell'orario del denunciato tentativo di stupro. E soprattutto ripristinare il gruppo delle guardie ecologiche volontarie non più attive dal 2018 e che avrebbero potuto con la loro opera di controllo risultare particolarmente utile anche soltanto come deterrente. A tal proposito non viene fatto riferimento, ma è bene ricordarlo, al fatto che in Golena fino a pochi anni fa vi fossero le cosiddette casette dei pescatori che sono rimaste ovunque ma non a Casal Maggiore perché considerate abusive. Si sono visti condoni fatti per molto meno considerando che quelle casette erano un punto di ritrovo e socialità oltre che un presidio di sicurezza.